Mi sono trovato messo in mezzo ad un'azienda molto molto giovane, quindi con un'età media di 27 anni, start-up dell'università, e sono andato a ricadere nei miei vecchi errori quando balbettavo. E quindi c'era questa ansia da prestazioni in cui i miei pensieri andavano così veloci che non riuscivo neanche a leggerli. E mi sono chiesto, cosa posso fare? Giro in internet come tutti, che va ad eliminare tutti i miei vecchi trinchi, che sono quelli della respirazione, e mi dà questo metodo in cui mi dice rallenta velocemente quello che stai pensando e utilizza le regole. E' stato come un cambio, è stato come un paradosso, un paradosso, e da lì mi avete cambiato assolutissimamente la mia vita. Non solo nella mia attenzione, ma nel pensare un balbuzziente in un secondo, 5.000 pensieri, che si accavallano. Quindi ho fatto questo percorso con me, ho fatto questo percorso con Savio, Io ho conosciuto il grande maestro Beppe, che dovrebbe essere il gold standard per tutti, e come ho detto sempre a Beppe, abbasso la frequenza in questo istante, perché c'è l'ansia di un vecchio ricordo, e dico, questo corso non deve essere fatto solo per i balbuzzienti, ma per chi fa un public speaking.